Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo come al solito che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che come al solito mi avete suggerito sul Google Docs. L'ho trovato davvero molto interessante, ecco perché oggi sono qui per parlarvi del caso di Michelle Herdon. Siamo in Florida, al Gainesville per la precisione. Alle prime ore del mattino del 10 novembre 2005, la polizia riceve una chiamata da un ragazzo, il quale chiede a gran voce di recarsi a casa di Michelle Herdon. Quel ragazzo si chiama Jason Daring ed è il fidanzato di Michelle. Dice alla polizia che non riesce a mettersi in contatto con lei da diversi giorni. Ora è fuori da casa sua. La sua macchina è parcheggiata davanti al dialetto. Le luci sono accese, così come la televisione. In casa è presente anche il suo cane Duke che saltella davanti alla finestra mentre abbaia. La porta d'entrata è chiusa a chiave. Tutte le finestre sono bloccate, ma soprattutto Michelle non apre la porta. Sembra che non ci sia nessuno in casa. Jason però sottolinea che se prova a chiamarla con il cellulare, riesce a sentire a sua volta il suo cellulare. Sempre all'interno della casa, squillare a vuoto. Le autorità a questo punto accorrono a casa della ragazza. E quando entrano in casa trovano Michelle senza vita, sdraiata sul letto, a faccia in giù, con un braccio ripiegato sotto il suo corpo. In casa non ci sono segni di collutazione. Tutto in ordine. Michelle non presenta alcuna ferita, non c'è sangue visibile, non c'è alcun trauma. Insomma, quella pare essere una morte naturale. Il punto è che Michelle ha solo 24 anni. Come può una ragazza di 24 anni, senza problemi di salute, morire così da un giorno all'altro? Forse Michelle aveva dei problemi di salute che però teneva nascosti? La porta di casa, come già detto, era chiusa. Così come le finestre. Forse era andata a dormire, si era sentita male e semplicemente era morta nel sonno? Dopo diverse ore i detective non riescono ancora a trovare una causa visibile della morte di Michelle. Ed è chiaro che ci sia qualcosa che non vada. Niente suggerisce che la vittima rientri nelle possibili categorie a rischio. In pratica non trovano alcolici e non trovano oggetti legati al consumo di sostanze. I detective, analizzando la casa di Michelle, hanno l'impressione che sia una ragazza molto ordinata, attenta alla sua salute e coscienziosa. Infatti nel suo frigorifero non c'è neanche mezzo alcolico. Bensì c'è del latte, dello yogurt, tanta frutta e tanta verdura. Michelle in realtà era una studente universitaria e bisogna ammetterlo, di solito le case degli studenti non sono così ordinate. Certo ci possono essere delle eccezioni, Michelle ne è la prova. Ma solitamente, bisogna dirlo, gli studenti universitari mangiano cibo da sporto perché non hanno né tempo né voglia di cucinare. Ma Michelle è totalmente diversa e i detective notano questi particolari, che sono sicuramente da tenere in considerazione per un caso di questo tipo. L'unica cosa che i detective riescono a trovare in quella casa è un profilattico usato. Un agente della scientifica lo reperta per farlo analizzare. Ma quella è l'unica cosa che abbia un minimo di valore indiziario trovato nell'abitazione. Ora però facciamo un passo indietro. Mettiamo da parte la scena del crimine e, come al solito, andiamo con ordine. Chi è Michelle? Da dove arriva? Michelle nasce il 15 luglio del 1981 a Live Oak, in Florida, da Donald e Belinda Herdon. La ragazza, quando cresce, sviluppa una forte sensibilità. Ama gli animali, è un attivista per lo sviluppo sostenibile contro il riscaldamento climatico, odia i bulli. Insomma, Michelle è una ragazza di buon cuore. Fa volontariato per anni al Jungle Friends, un'associazione senza scopo di lucro che fornisce cure permanenti e di alta qualità a delle scimmie ritirate dalle ricerche dei laboratori, ex animali domestici o ancora scimmie confiscate dalle autorità. Nel 2001 incontra Jason Deering e si piacciono entrambi davvero tantissimo. Ma il ragazzo in realtà è di Miami, quindi sì, i due ogni tanto stanno insieme, ma non ufficializzano mai la loro relazione proprio a causa della distanza. E per inciso, da Gainesville a Miami ci vogliono 5 ore di macchina, quindi non è una distanza così tanto infinita, ma non è neanche una distanza breve, insomma. Michelle inizia a frequentare l'Università della Florida dove studia antropologia e contemporaneamente, per poter pagare le tasse universitarie e un alloggio, lavora come personal trainer in palestra. Nel 2003 conosce e fa amicizia con Jessica Spiel. Michelle e Jessica ben presto diventano migliori amiche e Jessica racconta che in un'occasione Michelle l'aveva chiamata mentre stava guidando. Era totalmente impanicata e le aveva detto Oddio, Jessica, aiuto! Farò tardi a lavoro e finirò nei guai. Jessica di conseguenza le aveva chiesto perché avrebbe fatto tardi a lavoro. Quindi Michelle risponde Ho trovato uno scogliattolino per la strada, ha la zampina rotta, devo portarlo alla clinica veterinaria. Dopo questa conversazione Jessica sostiene di aver capito quanto Michelle fosse altruista. La definisce una protettrice, proteggeva gli animali, proteggeva la terra in cui viveva, raccogliendo i rifiuti che gli altri studenti seminavano per il campus, per le strade circostanti o nei parcheggi dei supermercati. Una volta, infatti, Michelle aveva visto un ragazzo buttare via un bicchiere di Starbucks vuoto in un parcheggio, per terra. Michelle era così arrabbiata che era scesa dalla macchina e gli aveva urlato Tu! Tu sei uno studente universitario! Sei giovane, proprio come me! C'è un cestino della spazzatura proprio vicino a te, se l'avessi buttato lì dentro saresti morto sul colpo. Ovviamente quel ragazzo le aveva sorriso in segno di scherno, facendo finta di nulla. Alla fine era stata Michelle a buttare nel cestino quel bicchiere vuoto di Starbucks. Arriva novembre 2003 e Michelle inizia a soffrire di strani mal di testa parecchio debilitanti. Fa fatica ad andare a lavoro, fa fatica a studiare, ma è una ragazza con la testa sulle spalle e soprattutto è una ragazza determinata, quindi non si tira mai indietro. Rimane a casa solo quando sta così tanto male da non riuscire neanche ad alzarsi dal letto. Passa qualche settimana e questo mal di testa non accenna passare. Quindi Michelle, anche sotto consiglio di Jessica, va dal medico. Il medico le prescrive dei medicinali, che però non hanno alcun effetto. Quindi Michelle si vede costretta a tornare molto spesso dal medico col fine di chiedergli dei farmaci diversi. Intanto chiaramente Michelle si sottopone anche a degli esami più specifici, ma nessun esame rileva nulla di strano. Secondo i medici Michelle è una ragazza sana e in forze, quindi non capiscono proprio da dove arrivino questi mal di testa così tanto debilitanti. Arriva addirittura un momento in cui il medico di Michelle allarga le braccia e le dice «Michelle, non so più che farmacodarti, praticamente li hai provati tutti e non ce n'è uno che ti dia una mano, c'è qualcosa che non va qui». Quindi a questo punto Michelle decide di fare un tentativo con dei rimedi erboristici. Insomma, beve delle tisane, usa degli oli che dovrebbero aiutarla a rilassarsi e questi mal di testa dovrebbero sparire da soli. Il problema è che neanche i rimedi naturali funzionano. Michelle tra l'altro ha speso tantissimi soldi per curarsi e per stare meglio e non ha ottenuto alcun beneficio. Quindi a un certo punto si arrende pensando che con quel dolore ci deve convivere. Intanto Michelle passa sempre più tempo con Jessica. La va spesso a trovare visto che abita solo a un chilometro di distanza da casa sua. Con Jessica c'è spesso la sua fidanzata Sky e Michelle si trova benissimo con entrambe. Jessica abita in una casa più grande rispetto a quella di Michelle, però ha due coinquilini che se ne devono andare a breve. Quindi ora la ragazza cerca un altro coinquilino o coinquilina per dividere le spese. Cerca un coinquilino e non due perché la sua fidanzata Sky decide di trasferirsi a casa sua. C'è da dire che la ragazza riceve ben presto risposta da un certo Oliver O'Queen. Fa l'infermiere e ha 27 anni. È nuovo in città, si è appena trasferito da Gesup in Georgia. Jessica fin dall'inizio ha una buona impressione di Oliver. È un ragazzo tranquillo, posato. Crede sia assolutamente il coinquilino perfetto per lei e per le sue esigenze. Quando Sky e Oliver si abituano alla nuova sistemazione, si ambientano, Jessica inizia ad organizzare quelle che definisce cene di famiglia. In pratica queste cene di famiglia consistono nel cucinare tutti insieme qualcosa per poi cenare in compagnia. Oliver chiaramente è sempre invitato a queste cene di famiglia. È un ragazzo molto intelligente, ma ha una grande difficoltà a relazionarsi con le altre persone. Inoltre è alquanto pieno di sé. Perché? Perché sa di essere intelligente. E Jessica a questo punto inizia a pentirsi di averlo scelto come coinquilino. A lei i palloni gonfiati non piacciono troppo. Ma Michelle non può fare a meno di dispiacersi per Oliver. Insomma, lui è sempre a lavoro e lei proprio non se la sente di escluderlo. Il ragazzo lavora come infermiere nell'unità di terapia intensiva chirurgica presso l'Health Shands Hospital nell'Università della Florida. Col tempo però Oliver inizia a dimostrarsi un po' troppo appiccicoso nei confronti di Michelle. La seguo ovunque. Michelle invece vede Oliver come un amico. Nulla di più. Ogni tanto i due escono insieme ed è sempre Oliver ad invitare Michelle. E quest'ultima non riesce proprio a tirarsi indietro perché sa che il ragazzo è molto solo. Non ha amici. E non è riuscito a stringere amicizia con nessuno da quando è arrivato. Ed è così che il tempo passa. Le giornate scorrono. Le stagioni anche. E di tempo ne passa davvero tanto. Perché passano due anni. Arriviamo a questo punto ad agosto 2005. Michelle ormai sta cercando di prendere le distanze da Oliver da tempo. Da tempo ormai esce con lui meno spesso. In quanto si sta riavvicinando a Jason. Il ragazzo di Miami. Un giorno mentre Michelle porta suo cane Duke al parco si ritrova davanti Oliver che porta in giro un cane che nessuno ha mai visto. Oliver chiaramente dice a Michelle che quello è il cane di un suo amico. Il punto è che Oliver di amici non ne ha. La sua situazione non è mai cambiata. Per due anni è sempre rimasto molto legato a Michelle. E non ha mai stretto amicizia con nessun altro. In effetti nessuno sa da dove si è assaltato fuori quel cane. Quello è l'unico giorno in cui lo vedono. E guardate un po', Oliver ne approfitta per unirsi a Michelle. Vanno quindi insieme al parco per far passeggiare i cani. Michelle però non si sente a suo agio. A questo punto non può fare a meno di pensare che Oliver abbia trovato un cane apposta per andare con lei al parco. E infatti Oliver inizia a fare a Michelle delle domande su Jason. Le dice che l'ha sentita chiacchierare con Jessica sul fatto che presto sarebbe venuto in città per andarla a trovare. La ragazza annuisce. Infatti il 28 ottobre del 2005 Jason e Michelle hanno programmato di incontrarsi. Devono prendere una decisione definitiva sulla loro relazione. Insomma ormai sono quattro anni che stanno insieme ad intermittenza. È giunto il momento di decidere se mettersi insieme ufficialmente oppure di staccarsi del tutto. Michelle è molto emozionata. Jason le piace tantissimo, le piace dall'inizio. Quindi dal 2001. Di conseguenza spera che la loro relazione possa continuare e diventare seria. I due come deciso precedentemente si incontrano. Jason va da Michelle e parlano parecchio della loro relazione. Alla fine decidono di stare insieme per davvero, seriamente. Almeno per vedere come va. Per vedere se possono avere un futuro. E chiaramente Michelle è al settimo cielo. Arriva l'8 novembre del 2005. E il padrone di casa di Michelle, Peter Alcorn, passa da casa sua dopo aver tentato più volte di chiamarla senza successo. Ad aprire la porta di casa però non è Michelle. È un ragazzo che il padrone di casa non ha mai visto prima. È a petto nudo e gli dice Mi scusi, non è un buon momento. Può passare più tardi. Peter, il padrone di casa, pensa che Michelle abbia compagnia. Quindi se ne va. Passa poco tempo. E a questo punto è Michelle che telefona a Peter, il suo padrone di casa. Si scusa per non avergli risposto. E si giustifica dicendo che ha avuto uno dei suoi soliti mal di testa. Un suo amico era in zona. Aveva dei farmaci contro l'emicrania. Dunque era andato a darle una mano. A questo punto passa un giorno. Arriva il 9 novembre e Michelle smette di rispondere al telefono. Avrebbe dovuto pranzare con Jessica, la sua migliore amica, ma non si fa viva. E quest'ultima non riesce proprio a rintracciarla. Anche Jason da Miami continua a chiamare Michelle. È preoccupato. Pensa che si è arrabbiata con lui. Perché da quando hanno deciso di stare insieme si sentono praticamente tutti i giorni. È così che in preda al panico, Jason si mette in macchina e guida per 5 ore da Miami a Gainesville. Arriva a casa di Michelle, ma nessuno gli apre la porta. Quindi allerta la polizia. Nel frattempo Jason contatta anche la madre di Michelle, Belinda. E le dice che Michelle è irraggiungibile. Non risponde alle sue chiamate. Ma soprattutto non apre la porta di casa. Belinda quindi a sua volta prova a mettersi in contatto con Jessica, la migliore amica di Michelle. È mattino presto. Belinda spiega a Jessica la situazione. Quest'ultima si veste in fretta e foria. E si dirige a casa di Michelle per vedere che cosa sta succedendo. A Belinda, la madre di Michelle, a questo punto non resta che aspettare una chiamata da Jessica o da Jason. Devono assolutamente dirle cosa sta succedendo. È successo qualcosa a sua figlia Michelle. In tanti i detective arrivano a casa di Michelle. Forzano la porta d'entrata per poter entrare in casa. E la trovano a letto, sdraiata, faccia in giù, senza vita. La madre di Michelle, Belinda, non sa cosa pensare. Quindi sale in macchina e inizia a guidare. In cuor suo sa che c'è qualcosa che non va. Ci mette circa un'ora per andare da casa sua a quella di Michelle. E quando arriva, viene accolta dal nastro giallo della polizia. Dalle auto della polizia parcheggiate davanti al vialetto di Michelle. Ma soprattutto dalle facce cupe degli investigatori già a lavoro. Un detective a questo punto si avvicina a Belinda e le dice che sua figlia è stata trovata morta in casa. Belinda crolla a terra e dice al detective che devono assolutamente trovare il colpevole. Perché altrimenti ci avrebbe pensato il padre di Michelle a trovarlo al posto loro. Nel giro di poche ore i detective escludono che ci sia stata una rapina. Tutti gli oggetti di Michelle infatti sono ancora in casa, compresi i suoi gioielli. Escludono anche il suicidio se Michelle si fosse tolta la vita. I detective avrebbero trovato qualcosa ad avvalorare questa ipotesi, come ad esempio delle pillole. E infine escludono che Michelle sia morta a causa di un overdose. Quindi c'è solo una spiegazione. Michelle, per quanto sia giovane, è morta per cause naturali. In effetti può succedere, i detective pensano che Michelle abbia avuto un aneurisma o qualcosa del genere. Quindi sono già pronti a chiudere le indagini. Ma la procedura impone di inviare il corpo di Michelle al medico legale per un'autopsia. Intanto gli amici e i familiari di Michelle sono devastati dalla notizia. Per mantenere la mente occupata organizzano un memoriale. I cari di Michelle ricordano i momenti che hanno passato con lei. Ricordando Michelle come una ragazza piena di entusiasmo, divertente, amante degli animali e della natura. Belinda sta facendo i conti col fatto che Michelle sia morta a causa di qualche malattia definita invisibile. E chiede agli investigatori se è possibile non effettuare l'autopsia. Il medico legale Martha Burt, che si deve occupare dell'autopsia, parla con Belinda dicendole che l'autopsia effettivamente può rivelarsi molto utile. Possono ottenere delle informazioni importanti per dare giustizia a Michelle. Non è assolutamente detto che sia morta per cause naturali. Potrebbe essere stata uccisa. Come? Solo un'autopsia, in questo caso, può fornire una risposta del genere. Così il medico legale effettua questa autopsia e scopre che Michelle non è assolutamente morta per cause naturali. Come un'insufficienza cardiaca o un aneurisma. Il problema è che non sa assolutamente determinare quale sia la causa della morte. Il medico legale stima che Michelle sia morta circa 24 ore prima del ritrovamento del suo corpo. A questo punto gli investigatori interrogano tutte le persone che conoscevano Michelle e che l'avevano vista negli ultimi giorni. Quindi controllano i loro alibi così come controllano l'alibi del suo fidanzato Jason. Ed è così che scoprono che tutti gli amici di Michelle hanno un alibi di ferro. Così come il suo fidanzato Jason. Infatti quando Michelle è venuta a mancare lui era a Miami, a 5 ore di distanza di macchina. Il preservativo trovato in casa di Michelle si è rivelato proprio essere di Jason. E in effetti il ragazzo dice agli investigatori che era andato a trovarla poco prima di Halloween. E proprio in quell'occasione avevano avuto un rapporto. Anche perché avevano ufficializzato la loro storia. Successivamente con un esame medico più approfondito il medico legale trova qualcosa sul braccio sinistro di Michelle. È un piccolo segno. Più piccolo della maggior parte dei segni che può procurare un ago. Il medico legale a questo punto arriva ad una conclusione. È necessario capire da dove arrivi quella ferita e come Michelle se la sia procurata. Il medico legale comunque pensa che quell'iniezione sia stata fatta da qualcuno con una formazione medica. Perché non sono presenti arrossamenti o lividi intorno alla ferita? Per carità eh, la presenza di quella ferita potrebbe essere più che legittima. Ma il medico di Michelle dice che non le ha effettuato nessuna iniezione né nessun prelievo di sangue. Le autorità a questo punto ordinano uno screening tossicologico per determinare cosa sia stato iniettato nell'organismo di Michelle. Gli investigatori nel frattempo tornano a casa di Michelle per analizzare una seconda volta la scena del crimine. In questo secondo sopralluogo notano che il sacchetto della spazzatura del bagno è scomparso. C'è solo il bidoncino dell'immondizia vuoto. Il detective Douglas notando questo particolare decide di andare a controllare i cassonetti della spazzatura adiacenti alla proprietà in un vicolo sterrato. E in effetti in una piccola busta della spesa trova diversi prodotti farmaceutici. C'è una siringa con all'interno un po' di sangue, fiale vuote di Propofol, di Midazolam e di Etomidato. Infine c'è anche una farfalla pediatrica. Quel sacchetto è ovvio che provenga dalla casa di Michelle perché all'interno il detective trova anche della posta indirizzata a Michelle. In effetti l'ago di una farfalla pediatrica è molto piccolo e ormai è chiaro che sia stato utilizzato per iniettare qualcosa nel corpo di Michelle. Chiaramente tutto il contenuto di quella borsa viene analizzato dai detective. Cercano delle impronte digitali ma non trovano assolutamente nulla. Nel frattempo c'è un'altra necessità. Gli investigatori devono capire a cosa serva il Propofol, il Midazolam e infine l'Etomidato. Il Propofol è un farmaco usato nell'anestesia. È un agente ipnotico a breve durata d'azione. Ma che cosa vuol dire a breve durata d'azione? Beh, vuol dire che una volta che viene somministrato questo farmaco ci si addormente immediatamente. E infatti viene usato per l'anestesia. Il Midazolam è una benzodiazepina. Agisce quindi sul sistema nervoso centrale, inducendo sonnolenza e rilassamento muscolare. E infine l'Etomidato è un ennesimo agente ipnotico intravenoso utilizzato in anestesia. A quanto pare il Midazolam e l'Etomidato sono due farmaci che vengono utilizzati per l'emicrania. Ma non il Propofol. Parlando con gli investigatori, Peter Alcorn, il padrone di casa di Michelle, riferisce che l'8 novembre era passato a casa sua per recuperare degli attrezzi che aveva dimenticato lì. Gli aveva aperto la porta un giovane con i capelli scuri e gli occhiali, dicendogli che non era un buon momento e che sarebbe dovuto passare più tardi. Più tardi? Sempre durante quel giorno, Michelle l'aveva contattato col fine di dirgli che era tutto a posto. C'era un amico in città che gli aveva dato dei farmaci per la sua emicrania. Emicrania che ogni tanto torna a farle visita da ormai due anni. Sperando di scoprire qualcosa di più, gli investigatori interrogano la migliore amica di Michelle, ossia Jessica. La ragazza dice agli investigatori che Michelle ogni tanto usciva con il suo coinquilino, Oliver O'Queen. Sicuramente Oliver era interessato a Michelle dal punto di vista sentimentale. Michelle però, un fidanzato, già ce l'aveva. Jessica spiega agli investigatori che Oliver è un infermiere e lavora nell'unità di terapia intensiva chirurgica presso l'Health Science Hospital nell'Università della Florida, il che significa che Oliver aveva la formazione per eseguire iniezioni. Oliver aveva raccontato a Michelle e a Jessica che era un paramedico EMT, ossia il massimo livello conseguibile. Era un vigile del fuoco ed era stato anche capitano dell'aeronautica. Aveva prestato servizio in Africa e poi era andato in Afghanistan dopo l'11 settembre. In pratica Oliver si era dipinto come un eroe di guerra. Il punto è che Michelle e Jessica mica erano stupide. Sapevano perfettamente che Oliver non poteva aver fatto parte dell'aeronautica come capitano. Era troppo giovane. A questo punto per il detective si apre una pista ben delineata. Oliver, a quanto pare, aveva aiutato a tenere a bada le micragne di Michelle. C'è però un bel problema perché Oliver, da qualche giorno, non abita più con Jessica. Ha fatto le varigie ed è andato via senza preavviso il 10 novembre. Gli investigatori a questo punto hanno un nome, ossia Oliver O'Quinn. Prima di cercarlo chiamano la madre di Michelle, Belinda, per aggiornarla sulle novità. Credono che sua figlia Michelle sia stata uccisa. La donna è incredula. Il detective le chiede se sua figlia per caso conosceva qualcuno che lavorava in ospedale. Belinda dice che sì. In effetti Michelle conosceva un giovane infermiere che viveva con la sua migliore amica Jessica. E quel giovane infermiere è proprio Oliver O'Quinn. I detective ora cercano di mettersi in contatto con lui più volte. Ma il ragazzo non risponde mai alle loro chiamate. Così gli investigatori decidono di andare al Shands Hospital per parlare con il suo supervisore. Il quale spiega agli investigatori che Oliver O'Quinn è stato licenziato il 9 novembre. Perché non aveva le competenze necessarie per lavorare in terapia intensiva. In pratica aveva falsificato il suo curriculum. In questo caso le autorità apprendono che molti prodotti dell'ospedale, quindi molti medicinali, erano stati erogati tramite Omnicel, un distributore automatico che eroga farmaci per i pazienti ai dipendenti, utilizzando i loro codici identificativi. I detective riescono a collegare i numeri di lotto sulle fiale dei medicinali, ritrovati nel sacco della spazzatura di Michelle, al codice identificativo di Oliver O'Quinn. Dunque è stato proprio lui a ritirarli. Il supervisore di Oliver afferma che, ora lui probabilmente, sta lavorando part-time al pronto soccorso del Nature Coast Regional Hospital, a Williston, una città che dista circa 57 chilometri da Gainesville. Gli investigatori a questo punto trovano davvero Oliver in quell'ospedale. Ma quando un detective gli chiede se può fargli qualche domanda, Oliver gli risponde che lo avrebbe sicuramente ricontattato più tardi per riprogrammare un incontro. I detective non gli mettono pressione, lo lasciano tornare a lavoro e attendono che sia Oliver a farsi vivo. Passano i giorni, ma Oliver non si fa risentire, quindi i detective tornano al Nature Coast Regional Hospital, dove il supervisore di Oliver dice ai detective che, in effetti, il ragazzo non si è presentato a lavoro. Mentre le autorità continuano a cercare di rintracciare Oliver, arrivano i risultati del rapporto tossicologico di Michelle. È stato determinato che Michelle aveva una dose letale di Propofol nell'organismo. Per la precisione, nell'organismo aveva una dose quattro volte superiore di quella letale. Con quella quantità di Propofol, Michelle ha smesso di respirare quasi sicuramente in pochissimi secondi. A questo punto i detective apprendono che Oliver O'Queen ha lasciato il paese, prendendo un volo per l'Irlanda il 29 novembre del 2005. Alla famiglia dice che si sarebbe preso due settimane di vacanza per stare a Doblino. Peccato che una volta arrivato inizia a cercare lavoro come infermiere immediatamente. Gli investigatori ovviamente cercano di rintracciare il suo passaporto e contattano il Dipartimento di Giustizia per avviare l'estradizione. Passano però due mesi. E ahimè, il caso sembra essere in stallo. Fino a quando Sean O'Driscoll, un giornalista irlandese che lavora per il quotidiano The Irish Time, aveva letto dell'indagine, quindi contatta il detective Douglas per chiedere se può dare una mano, se può essere utile. Il detective Douglas ovviamente accetta l'aiuto di Sean. L'uomo si offre di pubblicare sul giornale una foto di Oliver e di Michelle, con una sinossi dell'indagine dicendo che ci sono mandati attivi per un omicidio negli Stati Uniti per Oliver O'Quinn. Le migliore dei casi, Oliver avrebbe letto quella notizia. Anche la gente di Dublino l'avrebbe letto e magari ci sarebbe stata una protesta pubblica che avrebbe spinto Oliver ad andarsene. Nessuno in precedenza ci aveva mai provato. L'idea del giornalista è quella di cercare di indurre il sospettato a lasciare il paese e rifugiarsi da un'altra parte dove possa essere catturato, perché è estremamente complicato estradarlo dall'Irlanda. Questo chiaramente è un tentativo di spaventare Oliver per smuovere un po' la situazione. E in effetti funziona. L'Interpol infatti riferisce ai detective che Oliver O'Quinn ha lasciato l'Irlanda, ma non possono rivelare dove si è fuggito. Arriviamo al giugno del 2006, quando il servizio Marshall degli Stati Uniti chiama il detective Douglas per informarlo che Oliver O'Quinn si è presentato all'ambasciato degli Stati Uniti in Mauritania nel tentativo di ritirare una valigia. La Mauritania, ufficialmente repubblica islamica della Mauritania, è uno stato dell'Africa occidentale. Oliver riesce comunque a fuggire, anche questa volta. Barca il confine a piedi per arrivare a Dakar, in Senegal. Qui finalmente viene arrestato dalle autorità locali ed è stradato negli Stati Uniti. Nell'ottobre del 2006 viene arrestato dal Dipartimento di Polizia di Gainesville per l'omicidio di Michelle. Sebbene Oliver si rifiuti di parlare con gli investigatori senza un avvocato, un'ingiunzione del tribunale consente alle autorità di prelevare un campione del suo DNA per testarlo con le prove trovate sulla scena del crimine. O meglio, sulle prove trovate nel sacchetto della spazzatura appena fuori casa di Michelle, in cui, per inciso, c'era una seringa sporca di sangue. I risultati dimostrano che il sangue ritrovato nella seringa ha il profilo DNA che corrisponde a Michelle, mentre sul cappuccio della seringa c'è un altro profilo DNA che corrisponde a quello di Oliver O'Quinn. In pratica Oliver, senza pensarci neanche più di tanto, quando praticava queste iniezioni staccava il cappuccio della seringa con i denti. Ecco come c'era finito il suo DNA su quel cappuccio. Mentre le autorità preparano il caso per il processo, il compagno di cella di Oliver O'Quinn, un tale di nome Thomas Rouger, dice alle forze dell'ordine che Oliver aveva ammesso di aver ucciso Michelle. Oliver infatti gli aveva detto di averla uccisa dopo aver ascoltato una conversazione tra lei e il suo ragazzo, in cui aveva fatto dei commenti dispregiativi su di lui. Ora, volete sapere quali sono questi fantomatici commenti dispregiativi? Un giorno Jason e Michelle erano andati a salutare Jessica e ovviamente in casa c'era anche Oliver. Diciamo che Jessica prendeva sempre un po' in giro a Michelle perché era ovvio che Oliver fosse interessato a lei. Il suo ragazzo quindi, Jason, aveva iniziato a fare qualche domanda e si era un pochettino ingelosito. Niente di che ovviamente. Quindi Michelle con molta naturalezza aveva detto a Jessica, con Jason presente, ma io sto con Jason, con lui sto bene, poi Oliver non è affatto il mio tipo, è troppo nerd, sta sempre in camera, non è un chiacchierone come me. La discussione si era chiusa lì, Jessica aveva fatto spallucce dicendole, beh Michelle devi essere felice e se sei felice con Jason, io sono felice per te. Oliver quindi aveva sentito Michelle definirlo un nerd che sta troppo tempo in camera e si era incazzato come una iena. La ragazza a cui andava dietro da anni l'aveva umiliato. Michelle l'aveva sminuito e l'aveva fatto davanti a Jason, il suo ragazzo, e a Jessica, la sua migliore amica. Quindi Oliver aveva deciso di ucciderla per vendicarsi. Il 19 maggio del 2008 Oliver viene processato per l'omicidio di primo grado di Michelle Herndon e si richiara non colpevole. Durante il processo la difesa ha cercato di insinuare che la morte di Michelle sarebbe stata accidentale, che qualunque cosa fosse successa tra lei e Oliver era stata consensuale. E infine il decesso era il risultato di un incidente. L'accusa racconta una versione ben diversa. Il movente che aveva spinto Oliver a uccidere Michelle in realtà è uno ed è semplicissimo. Semplicissimo. Oliver voleva stare con Michelle, ma quest'ultima l'aveva rifiutato. E questo l'accusa lo sa bene perché, come già vi ho detto, Oliver, mentre era in prigione, si era confidato con un detenuto, ossia Thomas Rauscher, il suo compagno di cella, che tra l'altro testimonia anche al processo nel maggio del 2008. Thomas testimonia dicendo che Oliver gli aveva detto di aver punito Michelle col sonno eterno, perché per l'appunto l'aveva umiliato e denigrato. Secondo l'accusa Oliver si era guadagnato la fiducia di Michelle nei mesi, anzi negli anni precedenti. Era diventato suo amico e in diverse occasioni aveva somministrato a Michelle dei farmaci che veramente alleviavano i dolori causati dall'emicrania. Ma la sera dell'8 novembre 2005, al posto dei farmaci contro l'emicrania, Oliver gli aveva iniettato quattro volte la dose letale di un farmaco diverso, il Propofol. Prima della condanna Belinda parla per se stesso e per suo marito Donald, guarda Oliver in lacrime e dice esattamente queste parole. Ti guardo e ti giuro, vedo un uomo piccolo piccolo. Spero che tu non debba mai provare il dolore e la devastazione che io e suo padre proviamo ogni giorno, perché Michelle non è più qui con noi. Oliver dal canto suo ascolta Belinda senza alcuna emozione, con le dite intrecciate. Dopo soli 90 minuti di camera di consiglio, la giuria dichiara Oliver colpevole di omicidio di primo grado. Il giudice, prima di pronunciare la sentenza, dice E al di là della mia comprensione, perché una mente così brillante e intelligente possa concepire ciò di cui abbiamo sentito parlare questa settimana, durante questo processo. In questo caso hai giustiziato Michelle e stanotte, dopo la condanna, sono certo che dormirò profondamente e senza rimorsi. Dopo aver detto ciò, il giudice lo condanna all'ergastolo senza possibilità di condizionale. Oliver prova anche a presentare ricorso subito dopo il processo, ma viene respinto. Ragazzi, ho finito di parlare in questo caso e mi ho stupita, perché onestamente credo che Michelle non si sarebbe mai potuta salvare in questo caso. Erano due anni ormai che Oliver le somministrava dei farmaci contro l'emicrania. Oramai aveva la sua fiducia totale, completa. La cosa assurda è che Oliver è arrivato a fare un gesto del genere per una motivazione così futile, nel senso che Michelle non si è di certo messa a insultarlo o a dire cose brutte su di lui. Ha semplicemente detto che non era il suo tipo. Fine. Nient'altro. Per di più l'ha detto davanti al suo fidanzato. Non posso che essere dispiaciuta per questo caso, perché è chiaro che Oliver aveva una certa autorità su Michelle. Nel senso che Michelle lo vedeva come un professionista, come un infermiere, che le faceva dei favori ad andare a somministrarle il farmaco a casa sua. Michelle probabilmente pensava che se fosse andata in ospedale, lui l'avrebbe trattata esattamente nello stesso modo, somministrandole gli stessi identici farmaci. Non lo so. Voi cosa ne pensate di questo caso? Boh, rinnovo la mia tristezza per questa storia. Perché se in tanti casi mi viene da dire si poteva evitare, qui io non riesco a dire si poteva evitare. Si poteva evitare semplicemente se due anni prima Michelle non avesse dato confidenza a Oliver. È chiaro che col senno del poi si comprende sempre tutto. Ma voi cosa ne pensate di questo caso? Fatemi sapere quello che volete. Qui sotto, nei commenti. E nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti. Noi ci vediamo. 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 Grazie.